Ma chissi! Ma con il fu... No. Ma non ci ha dato il risponso! Non mi chiamate il risponso! Non mi chiamate il risponso! Ma non mi chiamate! Ma che stai cattolo! Bravo! Non mi chiamate il risponso! A casa le vincite! Ah, è schifo! Allora... Allora... Buonasera! Buonasera! Sì, eccolo qua! Buonasera! Buonasera! Buonasera, come hai? Buonasera! Buonasera! Come hai? Buonasera! Siete la cosa, vieni con i cammini e roba qua! Posso scaricare stasera, vieni che mi hanno detto! Ma sei sbagliato secondo me? Ma no, vieni qua, 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 qua! Eh, dico, possiamo riesco a scaricare stasera, vai io! Ma che mi hanno scaricato? E' anche 34, 35 metri, un guindale, l'erene, il giù! La roba che ho ordinato tu! Oh, questo che sei sbagliato! Ma come hai sbagliato? Ma va un attimo, ma scaricato, allora! Ma controlli, la roba, qua! Ma Austin e Ioria, Casal di Principe, via, prendisi! Ciao! Ma sei! Vi ascoli due! Vi ascoli due? Escoli, o non è la roba? Vi ascoli due! Vi ascoli due! Oh, stamo all'ascio! Stam, all'ascio! Oh, ascoli, prendisi! Stam ve... Oh, ascoli, prendisi! Ma qual è il problema? Bologna, l'acqua, eh! Siete la cosa, ma io, allora dai, la spezza papà, la massa frittà, la cilafrona, la schiatta ricotta, la brucia cattillo, la sbaracchia storta, eh, questa roba è anche pure una spezza papacca, oi? Sì, sì, io dico pure una spezza papacca. Ma come vuoi dire già? Chi dà per noi? Un po' di chi? Come vuoi dire? Ma come vuoi dire su? 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 Ma che signora? E' un marco, è fredda! No, no. E' un marco. Fredda! Bella! Allora, eh, p***ito, ma basta così, oi, ma vado a cominciare a picciare i reti, ragazzi, come sono male. Apriamo prima un po' purtè. Ehi! Ehi! Ehi, che c'è fa? Che la fa? Ha già portato questa roba, no? Ma che la la portò? Ehi, ma tu prima lo devi dire, non lo devi dire, ma che sta a portare? Ma se ne so, la cosa è sorda, ho capito che c'è sorda. Se tu ordini la roba, non vuoi che c'è sorda, è l'altro punto, eh! Ehi! Ehi, e ti ha riscobbi! Ehi, ci ha fatto. Ma com'è? Tu, chi sei? Ehi, tu, chi sei? No, tu, chi sei? 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 Ehi, ma dottia! Voi provo, vediamo che ti faccio! Ma che cazzo? Ehi, ma dottia, come ci vuoi? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ehi, ma che cazzo! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Sarnino Felicino, ma che cazzo? Sarnino Felicino Pronto? Sarnino! Buonasera, sono Mastanilla, signora, sto felice! Come ti chiamate? Mastanilla, signora! Sono già nervoso, non mi mettete per lui, ma voi? Ascoltate, aspettate, calmate! Ehi, ma che cazzo? 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 Scusate, che cazzo? Ma che cazzo? Ehi, ma che cazzo? Ehi, ma che cazzo? Ehi, ma che cazzo? Ehi, ma che cazzo? Ma che cazzo? Ehi, ehi. Allora, mi hanno carta appena scritto, ma ora vuoi spiegare? Ehi. Ehi, ma che cazzo? E' un pepino non serve per niente, non c'è! Ehi, ma chi è? E' un pepino, una tappaga terno! E' un pepino non sarà a funzionare! Andiamo in casa, no? E' un bel manello sempre, papà, niente! Ma voi, abba, ci non ci chiede a tutti! Papà, non ci chiede, che è meglio! Ma voi, mi chiede a fare, chi ha parlato? Niente un attimo, che fai? Come sei permesso da fare? No, vede! Ma lei ha urlato oggi! Non è pure! Faccio un dramma di già febbra, che cosa ha fatto? Mi chiede a fare un'altra cosa, non c'è, 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 non c'è. Ma vorrei... Non ci chiede a fare, ma tu ci chiede a fare per... Nooo, è Carutallini, Giudice, è a fare... No, Carutallini, eh, scusa, lui. Ma vorrei... Ma io non ci chiede a vita, voi non mi conoscete, ma perché aveva avuto un piquissimo, tu, papà? Sì, che ho pure che non lo conoscevo, ci ho saputo, mentre prima non c'è una niente! Ma voi siete il vostro papà, perché io ci riferisco tutto a mio marito, scusate! Ma il vostro marito prima che quando si avremmo buco a ferici, che voi ci chiede a fare una niente! Eh, ci chiede a lui? Eh, certo! C'è il vostro marito prima che vi chiede a scrivere, noi? C'è la prima che vi chiede a scrivere, come vi chiamate? Allora! Bazzaria lo mangiamo, bazzaria! Eh? Allora! Sì, che finita a scrivere? Ma c'è il vostro papà lì? Ma il vostro papà lì non dice che la figlia era scema, ma mia, mi chiede a scrivere, eh? Ah, comunque, non scusate con la bocca, non ci chiede a scrivere! Allora! No, no, no! Valla a scrivere! Valla a scrivere! Valla a scrivere! Scusate! Signor, averlo a sapere a scrivere! Per piacere, è stata a vostra posta! Vallo, signor, ho pensato, scrivi! Allora! Allora! Allora, 34 stacchiate giù! Sì, vabbè, non ci mangiare! Eh, fatti a dire! Tu parla lì, signor! Niente di roba quando parli! Ma io non ho capito! Ho scusato, mi sono rubato la bocca qui! Aspettate! Vado a dire che c'è! 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 Avvicinate! Ma che sporco! Signor! Scusate, ma questo è uno scherzo! No! Chi è l'operai mio? Chi è la capa non è buona? Ma mio marito vi conosce a voi? Eh, certo che ci conosce, signor! Massanile è il suo, Neil! Come? Massanile, signor! Ma perché stai tutta l'ingrazzata? Io non ho capito! Vado a dire che c'è! Vado a dire che c'è! Vado a dire che c'è! Vado a fare conversazione! Scrivi! Vado a dire che c'è la signora, non basta! Ah, io non ho capito! Ah, non ho capito! Non ho capito che stai ammazzata, ma perché qui c'è la sapeva il narizzo? Non puoi scrivere! Non puoi scrivere! Io non voglio scrivere! Ah, perché? Non so scrivere! È che stai comportato malamente conmigo! Ma che stai facendo? Vieni tu! Non mi pare, a te! Ma io riferisco tutto al mio marito! Fausto! A che riferisce? A che riferisce? No, non mi interessa! Signor, signor, non vuoi chiedere scusa per domande! Non mi interessa! Signor! Non mi interessa! Non mi conoscete! Ma come vi permette? Signor, non mi conoscete! Ma come vi permette? Ma niente! Ma tu! Come mi permette? Facitemi chiedere scusa! Signor, signor, facitemi chiedere scusa! Signor, non mi sconchiamo! Non sconchiamo niente, perché io la tua mia patrota non stava a fare! No, no, signor, che ne fa fatte? Signor, che si vuoi chiedere? Voi, come si è? Signor! Ora sta venendo, ma ci dica al mio marito e riferisco tutto! Arrivederci, signor, signor! Signor, un attimo solo! Fa piacere! Allora, calmate! Calmiamoci! Allora, signor, un bacetto! Fa un bacetto a giovanino! Signor, vai! Ma non siamo faciti. Ma faciti riuscimi! Un bacetto per te l'è! Perché come cosa? Signor, io un bacetto lo sto portando a te! Anche a chi ti vuoi prestare lo giacomaniare! Signor, a paten... Signor, a paten... Signor, a paten... I dento setto figli... Allora, chiudese il calacone, va non mi dare... Siamo chiamami a mia... I dento setto figli... Allora, signor, a paten... Pronto? Atta a casa! Bastare... Un po' non ci manchiamo mai! I zappi... Sul Radio Kiski... I zappi...